Ecco a noi il giurato del progetto Quindis, il professor Redi. Sì, buongiorno. Direi che fondamentale di quello che abbiamo visto oggi, a mio giudizio, è stato l'esercizio che i ragazzi hanno compiuto con questi mezzi digitali, la rete, tutto ciò che riguarda questo mondo nel quale loro sono proprio nativi. Ora, secondo me, questo mezzo, per chiamarlo con un termine solo, ha una capacità duale, cioè può essere impiegato per delle cose bellissime o per fare delle cose bruttissime. Ebbene, oggi i ragazzi, secondo me, hanno dimostrato di capirne il valore e di saperlo impiegare al meglio. Questo, secondo me, è una proiezione di ottimismo che ci viene. Dobbiamo ringraziare certamente l'associazione Mercurio, da grande anch'io, tutti i partecipanti, ma i ragazzi, per averci dato questa indicazione di ottimismo, sono capaci di capire il mondo nel quale vivono e di proiettarlo per gli altri, perché sanno anche condividere quanto hanno appreso. E questo è un elemento centrale. È un esercizio di democrazia quello che hanno fatto. Democrazia cognitiva.